Il corpo di una donna di 77 anni in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto all'interno della camera da letto. A far scattare l'allarme è stata la figlia. La procura di Santa Maria Capovettere ha aperto un'inchiesta. Messaggi sui social per il killer di Jojo. Una serie di iscritti a favore del giovane accusato di aver ucciso il musicista napoletano. La denuncia del deputato Francesco Borrelli che dopo aver ricevuto gli screenshot ha chiesto l'intervento della polizia postale. Movida fuori controllo, due persone in ospedale. Dai quartieri spagnoli a Pozzuoli non c'è pace nelle notti napoletane. 51enne raggiunto da un proiettile al tallone. Al Santa Maria delle Grazie è arrivato un 32enne che a Carabinieri ha detto di aver subito un tentativo di rapina. Salerno piena per le luci, meccaos per la viabilità. La domenica che chiude il fine settimana dell'Immacolata fa registrare l'ennesimo sold out per le luminarie d'artista. Migliaia di persone da tutta Italia soddisfatti gli operatori economici ma la nota stonata e il traffico paralizzato. Viegli eventi natalizi, Avellino si illumina a festa. Primo weekend di luminarie natalizie in città. Oggi il tempo incerto ha frenato un po' il passeggio lungo il corso ma tra concerti, mercatini e salazioni le iniziative non mancano. E qualcuno già parla di sfida con Salerno. Sagno, strade di sangue, la strage delle donne, non solo le due persone che hanno perso la vita negli incidenti di Sant'Agata dei Goti e Telese. La provincia di Benevento piange anche la 89enne di Foiano che lo scorso 7 dicembre era rimasta coinvolta in uno schianto. Erano questi i nostri titoli, buonasera e ben ritrovati con il TG News. In apertura di questa edizione del nostro telegiornale lo avete appena sentito dai titoli. A Mondragone, nel Casertano, il cadavere di una donna è avanzato stato di decomposizione, stato rinvenuto in un'abitazione. Stando ad una prima ricostruzione, pare che il corpo si trovasse all'interno di un baule della camera da letto. A partirebbe ad una 77enne del posto a fare la macabra scoperta, la figlia della donna, la procura di Santa Maria Capovetere, ha aperto un'inchiesta, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Caserta. La salma è stata sequestrata. Messaggi social in difesa dell'assassino di Giorgio Dura accusa del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Borrelli che chiede l'intervento della polizia postale. Dopo la vergogna dei messaggini dal carcere tra l'assassino reoconfesso di Giovan Battista Cutolo e i suoi parenti che gli manifestavano piena solidarietà, si apre una nuova pagina degradante di arroganza criminale sconfinata espressa tramite social. Così il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Borrelli che ha ricevuto diverse segnalazioni di chat dove la madre dell'assassino, insieme ad altri familiari, insulta pesantemente e minaccia tutti coloro che chiedono giustizia per Giorgio. Frasi esplicite e irripetibili all'indirizzo di chi sostiene che serva una giusta pena per chi ha ucciso senza pietà un giovane indifeso. Borrelli chiede a questo punto un intervento incisivo alla polizia postale. My Social e in particolare TikTok sono diventati maggiori strumenti di diffusione e di pubblico sostegno alla criminalità organizzata. Non a caso ci sono pregiudicati, camorristi, addirittura gente in carcere, boss che neggiano pubblicamente alla criminalità, gli omicidi, gli assassini, alla violenza sui bambini, a qualsiasi forma di attività criminale con migliaia, centinaia di migliaia, in alcuni casi milioni di follower. La polizia postale dovrebbe chiudere immediatamente i profili e dovremmo avere dei sistemi per cui non sia proprio possibile inneggiare la criminalità. Non esiste in Italia l'apologia di camorra o di mafia come reato e infatti queste persone lo fanno tranquillamente. Due uomini feriti in altre tante sparatorie a quartieri spagnoli di Napoli e a Pozzuoli. Notte di sangue nella Movide, carabinieri sono intervenuti nell'ospedale Santa Maria delle Grazie. Un 32enne era stato ferito a colpi di pistola al polpaccio destro. Da una prima ricostruzione pare che fatti siano avvenuti in via Domiziana a Pozzuoli a causa di una reazione della vittima ad un tentativo di rapina. La versione della vittima è al vaglio dei militari. Sempre questa notte carabinieri della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti all'ospedale Pellegrini dove un 51enne dei quartieri spagnoli, anche lui con precedenti, era rimasto ferito con colpi d'arma da fuoco al tallone del piede destro. La sparatoria sembra sia avvenuta al culmine di una lite. indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Napoli Centro. Parliamo ora di turismo. Tante le presenze in questo fine settimana nelle città campane. Il presidente regionale di Federalberghi, Iaccarino, commenta che tutte le località hanno avuto un ottimo risultato. Vediamo. Siamo fiduciosi veramente di un bel periodo dal punto di vista turistico per le nostre località. Nel fine settimana dell'Immacolata tante sono state le presenze a Napoli in Campania. Nel primo weekend di festa molti turisti che hanno scelto le città campane e per il presidente regionale di Federalberghi, Costanzo Iaccarino, si tratta di un trend importante che fa vesperare per Natale e Capodanno. Penso che tutte le località, sia turistiche ma anche meno conosciute dal punto di vista turistico, ma più conosciuti per quelli che sono gli aspetti dell'enogastronomia, dei percorsi alternativi, hanno avuto un ottimo risultato tutti, devo dire, in Campania. Folla a San Gregorio Armeno, la via dei presepi di Napoli, ma tante, le presenze anche nelle realtà più piccole, a trenare il settore, anche l'enogastronomia, gli eventi realizzati in occasione delle festività. Come a Somma Vesuviana, dove è stato inaugurato ieri sera il Christmas Village al Castello, eventi che, come in altre città campane, proseguiranno anche nelle prossime settimane, quando si punta a confermare i dati dello scorso anno. Ci aspettiamo un Natale e un Capodanno all'altezza degli ultimi anni, che ha avuto ottimi risultati, ottimi riscontri. Siamo fiduciosi di un bel periodo dal punto di vista turistico per le nostre località. Ed anche la domenica ha fatto registrare il tutto esaurito a Salerno. La città delle luci d'artista chiude il weekend dell'Immacolata con migliaia di presenze. Salerno si conferma tra le mete più ambite delle festività natalizie. Anche nella domenica, che chiude il fine settimana del Ponte dell'Immacolata, migliaia di persone da tutta Italia hanno scelto la città delle luci d'artista per trascorrere una giornata di relax. Soddisfatti gli operatori economici che guardano con fiducia anche alle località culturali. Il weekend dell'Immacolata positivo, con dati positivi. C'è ottimismo per questo inizio delle vacanze invernali in provincia di Salerno. Naturalmente l'attenzione è catalizzata, monopolizzata, potremmo dire dalle luci d'artista, la carmezza salernitana, ma anche dalle tante attività che si svolgono in città, alla stazione marittima, ai mercatini di Natale, le attività sul suolo pubblico, insomma. Ma il dato positivo riguarda anche le nostre città culturali, le città d'arte in provincia di Salerno. L'altro lato della medaglia è però il caos traffico. Già dal pomeriggio lunghe code e circolazione semi-paralizzata con parcheggi strapieni e attese estenuanti per trovare un posto. Unica nota stonata, registriamo problemi legati alla viabilità, specialmente per le Salerno città, e problemi di parcheggi. Ma fa parte della Kermess, che ormai è diventata di ampio raggio. E quindi questo è un bene per il tessuto economico e sociale di Salerno città e anche per le attività limitrofe che vivono di ospitalità turistica anche in questo periodo invernale. Primo weekend di luminare è natalizia ad Avellino. Oggi il tempo incerto ha frenato un po' il passeggio lungo e corso, ma le iniziative tra concerti, mercatini, installazioni non mancano. Non solo mercatini, alberi, luminari e il Natale ad Avellino offrirà anche altre iniziative culturali, percorsi nelle chiese, nell'Avellino sotterranea, esibizioni live per le strade del centro. Tanti momenti per i più piccoli, come in Villa Comunale e al Parco di Piazza Kennedy, installazioni ispirate al mondo degli animali. Sulla facciata del convitto proiezioni a tema e la parte del leone la fa sempre il grande albero. Oggi il tempo incerto ha un po' frenato il passaggio lungo il corso, ma il clima, anche con la filodiffusione, è comunque piacevole. Qualcuno già parla di derby con le luci di Salerno e i turisti, anche oggi qualcuno lo abbiamo trovato, apprezzano una città anche ordinata e pulita. Molto bello, molto suggestivo. E' una bella iniziativa da parte del sindaco. Sia d'estate e sia d'inverno. A Natale si deve respirare un po' l'atmosfera e stasera sono venuto ad Avellino proprio per verificare questo clima avellinese. Complimenti all'amministrazione, complimenti ai cittadini di Avellino. Io sono di Ercolano. A me piace tantissimo vedere le luminari, quindi sono arrivata fin qui apposta per guardarle. Bello perché è tranquillo, ci stiamo proprio rilassando, stiamo facendo una passeggiata serena, tutto pulito. E beh, Salerno è tutta un'altra atmosfera, però Avellino, siamo a buon punto. Non ha nulla da invidiare a Salerno con le luci di Natale quest'anno. Perché fare paragoni? No. No, ognuno c'è il suo Natale ed è bello per questo. Stasera poi la chiusura della grande iniziativa di solidarietà del Pino Irpino che in tre giorni ha toccato i 118 comuni irpini. Alla biblioteca provinciale già allestito un maxialbero per la raccolta dei doni. Scampia e Taverna del Ferro fondi PNRR a rischio. C'è preoccupazione a Napoli per i tagli e i progetti dei comuni. Vediamo. Il nuovo PNRR approvato venerdì in via definitiva dall'Ecofin taglia 1,6 miliardi ai pui che potranno contare su appena 900 milioni rispetto ai 2 miliardi e mezzo previsti dalla versione firmata da Mario Draghi. Il che vuol dire che progetti come Restart Scampia e il recupero di Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio potrebbero essere a rischio. La decisione del governo di modificare l'impianto del PNRR ha portato già il sindaco Manfredi ad assumere una presa di posizione politica netta ricordando al governo gli impegni che ha preso con il comune di Napoli. Alla voce del primo cittadino si aggiunge la spiegazione tecnica dell'assessorato all'urbanistica con l'alieto che assicura che tutte le procedure richieste e i tempi dei bandi sono stati rispettati ampiamente dal comune di Napoli. Ma i timori non mancano. Il ministro Fitto ha promesso che questi fondi non sarebbero stati persi dai comuni. Stiamo aspettando ancora di sapere le modalità. Il comune di Napoli è già in una fase molto avanzata in quanto sta già discutendo con le popolazioni di Scampia e di San Giovanni per capire gli spostamenti delle abitazioni, per fare i censimenti. Napoli non vuole fare passi indietro su questi grandi finanziamenti. Le popolazioni di Scampia e di San Giovanni da troppi anni aspettano questi ulteriori interventi di rigenerazione urbana per quei territori e noi come amministrazione siamo a fianco anche di quei cittadini. Il governo non deve fare niente. Deve semplicemente non fare guai, non fare tagli, non togliere ulteriori fondi al sud per portarli al nord. Andiamo ora nel Salernitano dove un parroco di Eboli avrebbe abbandonato l'abito talare per amore. L'ormai ex prelato sarebbe fuggito con una parrocchiana. I fedeli erano convinti che il sacerdote fosse in missione in Africa. Da tempo le attività della parrocchia erano state sospese senza preavviso, poi la singolare scoperta. Ancora cronaca, tre donne morte nel sagno e in altrettanti incidenti stradali avvenuti nelle ultime ore. Vediamo. Un weekend tragico sulle strade sannite, quello che è appena trascorso. Un bilancio nefasto di tre donne che hanno perso la vita in altrettanti incidenti stradali avvenuti tra la Valle Telesina, la Caudina e il Fortore. A Cantinelle, frazione di Sant'Agata dei Goti, nella serata di venerdì si erano scontrate una Opel Moc con a bordo un uomo e una bimba e una Lancia Y con a bordo una donna di 63 anni della provincia di Napoli. Non ce l'ha fatta la donna dopo essere stata trasferita in codice rosso al Sampio di Benevento, mentre la bambina è stata trasferita dal Fatebene Fratelli all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli. Nel tardo pomeriggio di ieri invece a Teleseterme, sulla via Sannitica che conduce ad Amorosi, un altro scontro ha visto coinvolte una Volvo e una Citroen C3. A bordo di quest'ultima vettura una donna di 58 anni di frasso Telesino che non ha avuto scampo per la violenza del sinistro. La donna, madre di tre figli, stava tornando a casa dopo aver fatto spese natalizie in un supermercato del posto. Bilancio che è peggiorato ulteriormente nella serata di ieri quando al Sampio è ispirata una 82enne di Foiano che era rimasta coinvolta in un incidente in località San Giovanni Mazzocca. Lo scorso giovedì 7 dicembre. Tragedia nella serata di ieri lungo la litoranea di Salerno. Un 78enne è stato travolto ed ucciso mentre attraversava. Un incidente mortale avvenuto nella serata di ieri lungo la litoranea di Salerno a perdere la vita è stato un 78enne originario di Battipaglia che è stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'impatto che è avvenuto all'altezza del Civico 20 di via Marionio nel comune di Ponte Cagnano Faiano è stato violentissimo. L'anziano che stava attraversando per raggiungere un locale è stato sbalzato ad una settantina di metri di distanza dal punto dell'impatto. L'investitore ha subito richiesto l'intervento dei soccorritori. Ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare sotto sciocchi i titolari dell'attività che all'indomani dell'ennesima tragedia chiedono interventi concreti per la litoranea. L'unica soluzione sarebbe impiantare un po' di tossi solo nelle entrate principali dei locali. Un po' di tossi, parecchi tossi dove stanno tutte le entrate principali e evitare questa velocità così alta. Non è la prima volta che succede qualcosa del genere qua. Un grido d'allarme rilanciato con forza anche dalle associazioni che si occupano di sicurezza stradale. L'attraversamento pedonale è qualcosa che può succedere non solo come distrazione ma anche come fattore aggiuntivo di mancata segnaletica. Il luminosità semmai è scarsa, quindi c'è bisogno di manutenzione in più, c'è bisogno di monitoraggio in più. Torniamo in Irpinia, crisi Asidep. I sindaci dell'Alte Irpinia chiedono al Prefetto, al Presidente Asi di risolvere la vertenza in tempi brevi tutelando anche l'aspetto occupazionale. La crisi dell'Asidep in Irpinia si aggrava, ci sono stati i primi sversamenti dai depuratori di Nusco e Sant'Angelo dei Lombardi. Tra domani e martedì si conosceranno i risultati dei primi campionamenti e l'ARPAC lancia l'allarme. Dal blocco degli impianti potrebbero arrivare i risvolti pericolosi per la salute pubblica. Intanto i sindaci dell'Alte Irpinia sono sul piede di guerra. i primi cittadini di Calitri, Sant'Angelo e Lacedonia, Di Maio, Repole e Di Conza si rivolgono ai Presidenti Asi Asidep e al Prefetto Spena per risolvere questo annoso problema in tempi brevi. E' fondamentale la tutela della maestranza che da anni, voglio dire, si impegna in questo settore e quindi ha sito anche competente. Secondo, hanno tutelate le aziende che ci sono nelle aree industriali che rappresentano un valore di questi ultimi 40 anni ma tutto questo in un quadro di difesa dell'ambiente evitare ogni forma di inquinamento perché noi sappiamo che un altro patrimonio dell'Alte Irpinia è appunto l'ambiente. Sullo sfondo il futuro di 55 lavoratori e l'affidamento del servizio si vuole scongiurare l'ingresso del privato ma Pisano tergiversa su Irpini Ambiente. Mi interessa che il servizio venga affidato o anche gestito in sicurezza nel più breve tempo possibile. A me non appassiona chi questo o questo. Mi interessa, ripeto, la tutela di una situazione generale che rischia di rigenerarsi. A San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento tantissimi turisti per la 21esima edizione della festa del croccantino superato anche il record delle edizioni precedenti con un croccantino di 77 metri. Gremita, nonostante il gelo San Marco dei Cavoti con tantissimi visitatori non solo dalla Campania ma provenienti da tutto il sud e il centro accorsi per quello che è diventato un vero e proprio rituale nel centro fortorino la festa del croccantino. Evento che è diventato una tradizione, un'istituzione siamo alla 21esima edizione vengono da tutte le parti, tutte le regioni del sud dalla Calabria, la Puglia, Basilicata, l'anno scorso in Lazio insomma Molise, Abruzzo. Il croccantino è diventato una tradizione appunto nessuno vuole mancare vedevo delle persone che vengono da Cassino da fuori insomma si sono fatti bei chilometri per arrivare qui. Superato nuovamente il record di lunghezza con 77 metri raggiunti nella splendida cornice del centro di San Marco dei Cavoti. Abbiamo esagerato quest'anno perché non solo abbiamo vattuto il record ma 77 metri sarà difficile per i prossimi anni perché dovevamo battere il record ma dovevamo mantenerci più in prossimità dei 64 metri dell'anno scorso. Siamo arrivati a 77 insomma l'anno prossimo sarà arduo a riuscire a migliorarci. Fratelli d'Italia dopo il congresso ha un nuovo coordinatore provinciale a Salerno è Giuseppe Fabbricatore. È Giuseppe Fabbricatore il nuovo coordinatore di Fratelli d'Italia in provincia di Salerno candidato unico ed unitario è stato eletto nel corso del congresso tenuto dal partito di Giorgia Meloni. Ringrazio il partito, la mia leader Giorgia Meloni, l'onorevole Cirilli 30 anni di militanza ma faccio un ringraziamento a chi mi ha preceduto l'onorevole Alberico Gambino per il lavoro che ha fatto fino adesso ma si continua sulla scia che abbiamo portato avanti quando l'ho fatto io per circa tre anni poi con Alberico Gambino poi dopo. Fabbricatore che ha già guidato Fratelli d'Italia in passato ha chiari gli obiettivi che intende portare avanti sul territorio salernitano. Fedo di De Luca lo conoscevo già 30 anni fa l'ho sempre combattuto lo combatterò ma sempre nel rispetto delle regole della politica ma penso che lo facevo come una partita di calcio lo facevamo a 5 contro 11 oggi giochiamo a 11 a 11 è una partita che ce la giochiamo. Il primo banco di prova saranno le amministrative di primavera in alcuni comuni superiori ai 15 mila abitanti. Fratelli d'Italia ha già indicato il suo candidato sindaco ma fabbricatore in queste settimane lavorerà finché il centrodestra possa presentarsi alle urne unito con le altre forze della coalizione. Ma non c'è nessuna fuga davanti Fratelli d'Italia è un partito organizzato si vota in 46 comuni nella provincia di Salerno sono 4 comuni superiori ai 15 mila abitanti noi siamo sempre per ricombattare il centrodestra perché vogliamo vincere e vogliamo mandare a casa i delugiani a deluca. Il Tg termina qui ora ci sono le previsioni meteo grazie per averci seguito. Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti.